Nel 2017 un nostro ricercatore archivista insieme con la complicità di Tatti Sanguinetti ha cominciato a guardare dentro un archivio di una società vecchia che aveva una serie di materiali e che luce aveva avuto in dote. Guardando dentro questi materiali sono apparse quattro scatole con scritto T puntato S puntato. Aprendo queste quattro scatole è stato trovato un bellissimo documentario che si chiama Il tentato suicidio nell'età giovanile ed era a firme regia di Ermanno Olmi. Ermanno Olmi al cui poi siamo andati a raccontare la cosa ha malapena lo raccontava, in realtà era un documentario fatto nel 1968, faceva seguito, era stato fatto per la multinazionale Sandoz, una farmaceutica ed era un documentario che aveva due parti, la prima parte un po' didascalica con numeri, cifre, quasi una ricerca scientifica, la seconda parte invece una parte dove Olmi si lancia nel racconto di questi ragazzi mettendo in scena una donna che aveva problemi psicologici e nasce un film bellissimo, stupendo. Il sogno più grande di un direttore di un archivio è quello di trovare nell'archivio dei pezzi che sono sconosciuti. Stasera siamo qui per una storia molto molto simile per certi versi, ma di cui ci parleranno però i nostri ospiti a cui c'è da volentieri la parola. Sergio Toffetti, grande esperto di cinema, ex direttore della Cineteca Nazionale, della Conservatore della Cineteca Nazionale, Museo del Cinema Torino, insomma non basterebbero dieci minuti per raccontare tutto il suo trascorso e quindi lo saltiamo, grande esperto di cinema, grazie un applauso. Ottavio Rosati, regista e conoscitore, adesso vi racconterà lui esattamente. Entra Adriana Prà, complimenti. Adriano buonasera prego. Quindi grazie per essere venuti, questo è un po' il sogno di ogni direttore di un archivio, di ogni responsabile di un archivio e quindi chi meglio di Sergio può raccontarci invece di questa scoperta che è stata fatta in questo caso. Grazie Enrico, grazie di essere venuti, anche a voi Ottavio e Adriano di essere qui con me per parlare di questo film di Rossellini. Rispetto al sogno di ogni archivista che è quello di trovare una cosa che prima non c'era, certo, quando lavoravo alla Cineteca Nazionale mi veniva sempre in mente quel che dice il principe di Salina nel Gatto Pardo, cioè non ha nessuno scopo vivere in una casa, in una casa di cui si conosce l'esatto numero delle stanze. Questo sostanzialmente è come funzionano i grandi archivi, nessuno conosce l'esatto numero delle stanze. Non perché in teoria non si possa sapere, perché per esempio al centro sperimentale c'era il negativo originale di Roma Città Aperta, era regolarmente schedato, ma se uno non interroga nel modo giusto il database non lo saprà mai. La storia di questo ritrovamento è semplice, vengono da me due psicanalisti torinesi, Marco Greco e Cristina Sidoti e mi dicono ti faccio vedere una cosa che è girata da Rossellini, io la guardo e dico però non ce lo dice nessuno che è girata da Rossellini, non si capisce questa cosa qui. Loro mi dicono vabbè forse questa no, ma sicuramente ha fatto una trasmissione tv per la televisione francese. E allora banalmente io ho telefonato all'Istituto Nazionale dell'Istituto Nazionale degli Audiovisuali che tiene l'archivio della televisione francese quando era pubblica insomma all'ERTEF e gli dico ma ce l'avete un Rossellini? E loro mi hanno guardato e mi hanno detto a parte ci ne abbiamo un paio ma abbiamo questo qui anche psicodramma e questo psicodramma. Quindi loro in qualche misura lo sapevano che c'era ma però non lo sapevano perché come avvengono le schedature? Magari si fa un contratto con due studenti e si dice fai la schedatura di mille film e lo studente se magari sarà italiano nella migliore dell'ipotesi il Rossellini gli suona forse oggi meno ma un tempo gli suonava nell'orecchio. Però se è francese non è detto che gli risuoni il titolo del film di Rossellini quindi banalmente lo scheda non avverte nessuno questo può essere successo nel 1980 senza alcun problema. E quindi ovviamente in un database è come tutte le macchine risponde se tu gli chiedi qualcosa cioè se non sai chiedere il database non ti risponde. Ed è spuntato fuori questo psicodramma che sicuramente di Rossellini perché banalmente era nei titoli di testa e quindi lì non c'era discussione sul fatto che fosse Rossellini. Dopodiché però si sono trovate delle testimonianze perché dirette. Quindi nei titoli di testa figurava anche come uno dei due operatori alla macchina uno era un greco non so chi sia ma figurava anche Lelouch. Allora per una nelle mie vicende lavorative passate avevo visto dei piccoli documentari che Lelouch gira quando era militare in Algeria e quindi corrispondeva insomma poteva poteva essere Lelouch. E quindi abbiamo chiesto a lui c'è anche si ha fatto un'intervista a François Roger della Cinematica di Gransella ha fatto un'intervista e a Lelouch si ricordava perfettamente un giorno di riprese perfettamente come era andata con Rossellini cioè proprio che era stato per lui ovviamente una giornata emozionante perché era stato per lui sapeva usare sapeva tenere un piccolo corso sapeva tenere in mano una cinepresa. Insieme con lui Lelouch dice c'era anche Pialà però dice ma era già malfidente fin da giovane quindi non ha voluto partecipare è rimasto dietro le quinte non ha voluto comparire. Dopodiché Inà ha fatto la digitalizzazione la struttura per cui lavoravo all'epoca c'è l'archivio di cinema industriale di Ivrea che era una struttura del centro sperimentale ma fuori Roma ha lavorato un po' il film e poi è venuto il momento di costruirci però di spiegare che film era. Allora io ho chiesto a quelli che penso fossero i tre maggiori studiosi nelle tre aree linguistiche di Rossellini cioè a Pra in Italia, Bergalà in Francia diciamo nella francofonia e Tag Gallagher in America diciamo per l'anglofonia e loro ben volentieri hanno collaborato a scrivere un pezzo interpretativo sul film. Ovviamente un film così, ora vi dico di cosa parla, abbiamo tenuto il suspense, il film Rossellini riprende Jacob Moreno diciamo l'inventore dello psicodramma che monta tre esercitazioni di psicodramma a quello che non era proprio la televisione francese ma era il centro di ricerca della radio e della televisione francese diretto all'epoca da Schaeffer che è stato musicolo ma anche grande, ha scritto anche alcuni, L'uomo ordinario cinema che è un grande libro di cinema e filosofia insomma. E questo è uno dei motivi per cui non fu mai trasmesso in televisione perché era già stato fatto per un'occasione di ricerca e probabilmente poi chi lo vedrà siccome di fatto sulle tecniche di Moreno si basa anche il lavoro che ha fatto l'actor studio, era un modo per far interagire gli aspiranti attori della televisione francese, quindi erano delle esercitazioni. Quindi attraverso Marco Greco e Cristina Sudotti si sono stati chiesti dei pezzi interpretativi per esempio a Tavio Rosati che aveva già fatto una trasmissione tv sul tema dello psicodramma, cui ero assolutamente ignorante sul tema specifico dello psicodramma. E poi abbiamo ricostruito attraverso uno studio francese che si occupa di storia dei media, Guillaume Suisse, che cosa succedeva nel centro ricerche, che cos'era e cosa succedeva il centro studi ricerche della radio e della televisione francese all'epoca. Dando così i tre livelli, da che sistema produttivo nasce questo oggetto misterioso, qual era il punto su Rossellini a quell'età lì, cioè in quell'epoca lì, siamo nel 1956, Rossellini non aveva ancora fatto niente per la televisione, subito dopo però fra India e in Francia. Infatti questo è un passaggio interessante nella storia di Rossellini, nella avventura produttiva di Rossellini perché era un periodo di crisi nella sua produzione insomma e veniva da alcuni insuccessi cinematografici e poi in Francia avrà la possibilità di fare India. E ovviamente anche nel merito dello psicodramma perché come io non ne sapevo niente, anche i potenziali pubblico interessato a questo diviso, poteva non saperne abbastanza. Adesso io darei la parola a Ottavio Rosati e poi alla Francia. Bene, grazie. Innanzitutto Vera Fazio, grazie a tutto quello che ha fatto. Sì, l'avrei ringraziata io. Vera Fazio, alza di Vera, la nostra responsabile dell'edizione è una donna meravigliosamente brava, generosa e simpatica e anche in questo caso l'ha dimostrato. Che cosa posso aggiungere a questa introduzione? Una piccola storia che è un onore per me averla potuta raccontare nel booklet di questo bellissimo DVD. La storia comincia molti anni fa quando l'americanista Fernanda Pivano si fa convincere da me ad andare al teatro di psicodramma di Beacon a New York dove c'era Moreno e la vedova Zerca e le fa un'intervista per i Corriere della Sera sulla storia dello psicodramma in rapporto a Living Theater e all'Actor's Studio. Mentre loro facevano questa intervista io ero un giovanissimo psicodrammatista innamorato in modo totalmente travolgente del personaggio carismatico di Moreno gironzolo in questo istituto che è un teatro un po' giorgiano, una casetta sotto gli alberi in un piccolo bosco a 20 minuti da New York, Beacon e entro in modo mercuriale scorretto ma appassionato nella tipografia forzando una finestra e in un angolo trovo una pizza metallica che contiene una pellicola ma non era la pellicola di questo documentario bensì di un altro che si intitola Psicodramma di un matrimonio fatto pure da Moreno alla Sorbonne circa dieci anni dopo e che è un vero psicodramma. Chiedo il permesso a Zerca Moreno di portarlo in Italia, di trasformarlo in VHS perché all'epoca non c'erano i DVD, c'erano i VHS e le chiedo informazioni. Lei si confonde e mi dice che è lo Psicodramma di cui era stato regista Rossellini. Infatti quando il dottore Aprani mi telefonò, credo per un saggio a un libro su Rossellini, mi disse ma è sicuro che quello di Rossellini sicuramente è di Rossellini anche se il nome nei titoli non c'è perché nell'altro il nome Jean-Luc Leridon, regista in forza alla radio televisione francese. In realtà non era vero. Poi con Claudio Bondi che era stato allievo di Rossellini e che mi faceva la regia televisiva, io propongo ad Angelo Guglielmi il primo programma televisivo della storia dello Psicodramma basato su veri Psicodrammi. Per esaudire l'utopia di Moreno che la televisione potesse diventare una cassa di amplificazione del gruppo e portare uno Psicodramma dappertutto. E allora Bondi giustamente dice ma noi dovremmo cercare anche l'altro documentario. Tutte le ricerche non portano da nessuna parte. come hai fatto tu in una... sei un genio. Ma siamo andati a Parigi e abbiamo telefonato, ho scritto, ho fatto di tutto. Forse. Oppure un problema di tuo personale carisma creativo organizzativo perché mi ha detto Maria Cristina che tu hai sollevato il telefono, hai detto dove sta e te l'hanno detto. Vabbè comunque l'importante è che sia saltato fuori. L'altra cosa che posso aggiungere prima di sentire le osservazioni importanti di Apra su Rossellini che è una cosa meravigliosa che abbiamo questo documento, ma in realtà quello che vediamo non è uno Psicodramma. È un esperimento di carattere Psicodrammatico che Moreno fa con la presenza geniale e borghesiana, come diresti tu, di Rossellini. perché Rossellini fa da regista senza fare nulla di quello che dovrebbe fare un regista. Perché? Non c'ha il testo, non sceglie gli attori, non gli può fare la regia, non cambia le luci, non può operare le inquadrature, però tutto sa di Rossellini. Perché? Perché tutto è improvvisato. Rossellini, un po' come De Sica, faceva recitare anche i sassi, le sedie, persino gli attori di professione faceva recitare. Faceva recitare chiunque. Ed era lì presente e a mio parere bisognerebbe scrivere un film su questo incontro straordinario di Rossellini che mette in imbarazzo Moreno. E' Moreno che mette in imbarazzo Rossellini sotto il segno di un controtransfert reciproco di due geni della cultura del novecento che si trovano a fare una cosa veramente straordinaria. Il tema che salta fuori è il padre. A un certo punto l'attore che incomincia a parlare di suo padre è un attore di origine ungherese, dice che lui non è interessato alla teologia, è Dio ma alla politica. Alla fine di questo esperimento Moreno lo costringe a dire in modo iperattivo una sua personale battuta sul padre che è tratta poeticamente dal libro di poesie, le parole del padre di Moreno, e che l'attore magnificamente interpreta dandogli cuore, passione e convincimento. E' un documento vertiginoso e restaurato in maniera straordinaria. Siamo felici che sia stato trovato, mi scuso ancora una volta per averte detto che era quello che non era e stiamo a vedere che cos'altro produrrà il futuro. Grazie. Anch'io a suo tempo ho fatto la mia ricerca d'archivio. Sono andato all'Inaa, dentro all'Inaa, per Rossellini e per esempio ho visto la versione francese dei documentari sull'India. Quelli li ho visti lamentandomi che fossero in bianco e nero e non a colori, perché in realtà erano stati girati a colori. E poi naturalmente ho chiesto dello psicodramma. Come mai sapevo dello psicodramma? Perché nei miei vari interessi c'erano quelli psicoanalitici. Avevo comprato il libro suo, Astrolabio edizione. Il libro è curato da me. E nella prefazione leggo una descrizione di questo psicodramma. E quindi sapevo che c'era il film, che l'aveva fatto, ma non sapevo nient'altro perché nessuno che io sappia nella vasta bibliografia rosselliniana l'ho mai citato all'epoca. Ma con i cagliè, io ho cercato nei cagliè se c'era una traccia, visto che nel 1956 Rossellini era a Parigi, Pappa e Ciccia con i cagliè di cinema. E non gliene ha parlato evidentemente. Comunque, non c'era traccia. Probabilmente, come dici tu, perché non era mai stato schedato. Ancora? Eh, appunto. Manca la scheda. Il film c'era, manca la scheda e senza la scheda non c'è il film. Va bene. Detto questo, Rossellini era un nemico della psicoanalisi. La considerava una cosa regressiva. Ma una cosa è quello che uno dice e una cosa è quello che uno fa. Perché Rossellini, io non voglio dire che abbia fatto uno psicodramma, ma l'episodio con Anna Magnani, una voce umana, che comunque diciamo che è una seduta psicoanalitica, in cui lui mette in gabbia la sua donna e la tortura. tortura è un termine, ma insomma, la tortura facendole fare una delle sue più grandi performance. Non uso a caso il termine performance. non solo, ma Rossellini è sempre stato in quegli anni un, usiamo il termine metaforicamente, psicoanalista nei confronti della Bergman. lui ha messo la Bergman in condizioni sfavorevoli per una diva americana, la quale si innamora di Rossellini perché ha visto Roma città aperta e paese a a a a, perché vuole. in realtà la leggenda, non è una leggenda, la lettera che la Bergman ha scritta a Rossellini, l'ha scritta anche a Fran Capra, sì, sì, è uno, è una delle lettere che lei ha scritto perché voleva uscire dal clima hollywoodiano e quindi ha preso dei registi hollywoodiani, ma è di successo, Rossellini in quel momento. Chi? La lettera della Bergman. Ah, la lettera della Bergman era, ho visto Roma città aperta e Paisà, mi sono molti piaciuti, se vuole un'attrice che parla il tedesco, che parla lo svedese, che parla l'inglese, in italiano sa dire soltanto ti amo, io sono pronto a lavorare con lei. Da dove viene questa battuta ti amo? è una battuta di un film diretto da lui, il ponte di Waterloo, in cui lei a un certo punto dice in italiano, nella versione originale, ti amo. Però voi capite che il Rossellini non è rimasto indifferente di fronte a questa mail. e le ha scritto e da lì è cominciata. Comunque, per farla breve, lui prende questa diva, era la diva numero uno a hollywood, a hollywood non è che la diva numero uno è la più brava, la diva numero uno è quella che ha i maggiori incassi. Quindi lui prende questa, ruba a hollywood un capitale, un capitale, lo porta dove? nell'isola di Stromboli, dove non c'era elettricità, dove non c'era acqua corrente, dove bisogna camminare a piedi. Insomma, se uno è stato mai a Stromboli, anche adesso, salire sul monte non è una cosa che tutti possono fare. e l'ha torturata perché le ha fatto fare un ruolo antipatico. Le ha fatto fare un ruolo antipatico in Europa 51, le ha fatto fare un ruolo antipatico in Viaggio in Italia, le ha fatto fare un ruolo antipatico nella paura. Ma cosa sono questi ruoli se non prendere una persona, una donna e costringerla a tirar fuori quello che lei non sa di avere, che si chiama l'inconscio, se non vado errato. Insomma, più o meno. Nel senso che... No, hai ragione su tutto, però lo psicodramma, permetti, è il contrario della psicanalisa. E vabbè, ma insomma, perché Rossellini... Quando Moreno incontrò Freud da ragazzo a Vienna, disse Professore, lei incontra le persone nel chiuso del suo studio e lei incontrò questo stato. Lei analizza i sogni, io do alla gente il coraggio di sognare ancora. Comunque, Rossellini era un uomo curioso, terribilmente curioso, era una spugna. Quindi il motivo per cui ha accettato la proposta di filmare lo psicodramma, a parte che qualcuno intelligente poteva aver capito dai suoi film che in Francia hanno avuto una coglietta straordinaria, al contrario dell'Italia, che era la persona adatta. Perché il suo modo di fare film è un modo che non è quello distaccato, ma è inquisitorio, insomma. Lei ne sa più di me su questo. Io così ho interpretato il fatto che Rossellini abbia fatto lo psicodramma perché voleva sapere prima di rifiutare. C'è un film di Rossellini pochissimo conosciuto, anzi credo il meno conosciuto, che in un certo senso è il più psicoanalitico, che è Giovanna d'Arco Arrugo, che è un film con la Bergman, che filma un oratorio di Paul Clodel e di Arturo Honegger, la cui trama consiste nel fatto che il frate Domenico interroga Giovanna, che è salita al cielo perché è morta nel rogo, e la convince a rievocare il proprio passato per scoprire la verità, il motivo per cui è stata bruciata. E alla fine lei si libera dalle catene che ancora la tengono legata, e sale al cielo. Diciamo così che la seduta psicoanalitica è una seduta riuscita, perché è guarita. Posso chiederti delle informazioni? Come andò il rapporto tra Rossellini e Ramagnani? A piatti di spaghetti in faccia. Erano due che si somigliavano, i matrimoni fra due che si somigliano, non so, sono pericolosi, diciamo, come minimo. Erano due belve, litigavano tutto il tempo, probabilmente scopavano tutto il tempo, però quando Rossellini ha ricevuto la lettera della Bergman ha trovato il pretesto, la leggenda dice scusa Anna scendo a comprare le sigarette. E non si è più fatto vedere la leggenda, non ho prove. Dal punto di vista psicoanalitico allora sarebbe stato questo che tramite la Bergman, Rossellini si è vendicato da Ramagnani. Sì, perché la Bergman era il contrario, la Bergman lui l'ha sottomessa. Lei è... Eh no, te voglio. Interessante anche guardare poi il tema dello psicodramma. Vedendo in questo, questo era l'unico documento che io ho visto, in realtà ho visto un pezzo di quello, mi l'avevano fatto vedere e io avevo detto... Sì, quando vengono da me Marco e Cristina è lì che io ho detto ma nessuno ci dice che è di Rossellini questo. Però, da non specialista, il personaggio di Moreno è un personaggio affascinante, diciamo per un non studioso moreniano, perché è una via di mezzo tra un mago, un imbonitore, uno psicanalista, eccetera. Però, comunque, ha la capacità in qualche modo, non so come dire, mesmerica, cioè di individuare dei temi che sono anche, per esempio, un tema che tocca, secondo me, toccava a Rossellini abbastanza da presto. Perché il tema degli psiche, lui dà i primi due psicodrammi, poi il secondo che forse diventa, da un'esercitazione, come tu dicevi prima, diventa davvero uno psicodrammi, cioè l'attore, secondo me, si fa coinvolgere, e poi il terzo cambia tema. E la domanda, siamo nel 56, perché è importante impegnarsi in politica? E allora questo del perché è importante impegnarsi in politica è un tema che per Rossellini è complicato, insomma. Perché Rossellini veniva già, siamo nel 56, da una trilogia della guerra fascista e dai film, i grandi film del neorealismo, insomma, e da Roma città aperta. Passano due anni da quando lui gira L'Uomo dalla croce a quando lui gira Roma città aperta. Sicuramente era per lui un tema, insomma, di cui forse si sono dette cose molto differenti, differenti da quel che dice Tag Gallagher nel suo libro su Rossellini e da altre interpretazioni rosselliniane. In più era anche un tema interessante per l'ungherese, perché siamo nel 56, il film in realtà viene girato un paio di mesi prima, se ho ricostruito bene l'insurrezione di Budapest. Però in qualche modo Moreno riesce a toccare dei nodi, non so come, dimelo tu come, cioè riesce a toccare dei nodi che sono forti sia in questo caso per l'attore e sia per Rossellini. Però ti vorrei fare una domanda. Secondo te che ha fatto in quella stanza Rossellini? Secondo me in quella stanza Rossellini molto gli ha lasciati fare e ha favorito che si facesse. Diciamo che in quella stanza c'era sicuramente un mago in scena, cioè quindi uno che aveva una capacità di percezione io direi extrasensoriale, capiva e toccava dei nodi personali che nessuno gli aveva suggerito prima. e però dietro c'era anche un altro cineasta che era capace in qualche modo di far filtrare poi sullo schermo dei nodi che in qualche modo lui suggeriva ma anche che nessuno gli aveva suggerito prima. Questa dialettica che c'è tra... Moreno fa da regista evidente e diciamo il regista manifesto mentre c'è un regista inconscio. Tra l'altro in Moreno hai notato delle nuance di Totò Diabolicus? Comunque c'è un'espressività di tipo fisiognomico interessante. E allora si può ipotizzare, Francesco tu sei fresco di studi psicoanalitici bioniani, in fondo Rossellini ha fatto lo psicoanalista perché ha contenuto, cioè Rossellini ha fatto lo holding dell'acting out di Moreno. Rossellini diceva che come dire lui non dirigeva gli attori nel senso normale del termine devi fare così, devi fare cosa, fai un passo avanti, li metteva in situazione. Allora quello che ha detto adesso Sergio è esattamente quello. Lui è un altro rabdomante come Moreno mi pare da quello che io l'ho conosciuto. Era un seduttore. Si è servito, ha messo in situazione, Moreno ha messo in situazione lo psicodrama, Rossellini ha messo in situazione Moreno. L'ha lasciato fare perché ha intuito com'era, non gli andava bene. Francesco, quindi è vero che ha fatto raccontentore Rossellini. Sì. Sì, possiamo dire che ha creato un contesto sicuro in cui praticamente Moreno si è potuto muovere tranquillamente. Era uno spazio sicuro. Guillaume Sillest, tra l'altro, ipotizza la storia di questo incontro, com'è che arriva Rossellini lì. Dice che due mediatori, perché erano persone che Rossellini frequentavano in quel periodo, potevano essere uno, Rush, e a Rush Rossellini probabilmente ci arriva attraverso Enrico Fulchignoni, che è un personaggio che ho conosciuto bene, e che è un personaggio curioso. Direi quasi più Fulchignoni. Sì, ma diciamo che il meccanismo era che Fulchignoni lo porta da Rush, che lo porta da Schaeffer, cioè il meccanismo era... Vedo una bella scena a tre. Sì, una roba del genere. Che lo porta... Allora, cosa vuol dire questo? Cioè che un antropologo cineasta, più un... Non ho capito bene come definire Fulchignoni, cioè che ha fatto tante cose nella sua vita, comunque era interessato a quel mondo, cioè al mondo dell'antropologia. In quel periodo lui era già all'UNESCO, poi sarà a lungo presidente del centro internazionale della televisione dell'UNESCO. Però da giovane aveva fatto anche un film di Cappespada, il primo film con cui collabora anche Antonioni, che era dei due Foscari, quindi aveva una... Come dire, lui veniva fuori dal guf... Dal guf... Ful sceneggiatore Antonioni. Ful sceneggiatore Antonioni e arriva fuori dal guf di Messina, insomma, quindi era un personaggio molto interessante. Allora, lì arrivano in una situazione in cui credo che poi anche Moreno fosse stato contattato da un gruppo di intellettuali francesi non definibili tanto bene, affascinati dal cinema, affascinati dall'antropologia una volta abbia occasione di parlare di questo con Frida Grafe e gli dissi hanno un'idea, lei mi disse non ha un'idea una folgorazione, diciamo delle folgorazioni non proprio delle idee veramente strutturate e in quel mondo lì, quello credo sia stato il magma che ha consentito poi la scintilla tra Rossellini e Moreno C'è anche da rendere onore alla vera fazio della situazione che era Annanzelein Schutzenberger senza di lei non avrebbero fatto nulla Questa signora che si vede dietro lo schermo, che poi è lei, si vede che è una specie, lei è quella che dirige Moreno in qualche modo Lei è stata per Moreno quello che Marie-Louise von Franz è stata per Jung, l'allieva preferita piena di buonsenso, quando al primo congresso internazionale di psicoterapia a Parigi Moreno si era chiuso nell'albergo perché i traduttori simultanei andavano in cerca di soldi per essere pagati e lui non ce li aveva, lei ha venduto uno chalet per pagare i debiti di Moreno Moreno era un uomo generosissimo ed è la donna che ha inventato la trasmissione intergenerazionale dell'inconscio è un personaggio molto importante da Schutzenberger e vorrei raccontarvi un ultimo aneddoto bizzarro lei dice continuamente alla fine avete notato vite, 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 vite presto, 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 presto questo avveniva nel 1956 quando Ronconi e Guglielmi organizzarono alla RAI di Torino da storia nasce storia che è il pieno adempimento di questo progetto dello psicocinema era il 2001 un certo Ottavio che si pigliava carico di questa conduzione fece un sogno enigmatico che è stato ripreso in una delle puntate in questo sogno c'erano dei funzionari televisivi che dovevano passare a un passaggio livello e dicevano vite, vite la sincronicità nel caso di un personaggio del livello di Moreno funziona addirittura all'inverso nel 1991 era rimasto vabbè poi tu sai che Torino è una città magica qualche frammento di questo vite, vite che era partito dalla Parigi nel 1956 ti vedi come ho sbagliato nella mia vita io comincio in università e mi dico faccio psicologia do due esami e prendo anche trentelode e poi mi dico ma no sta roba qui mi pare una roba astratta passo estetica hai capito tutto va bene, grazie di essere venuti grazie